Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Allora ragazzi siete pronti? Continuiamo Harry Potter Lego Harry Potter anni 1-4 Siamo arrivati al diario di Tom Ripper Ah ok ma abbiamo affrontato il mio urtillo Il problema ragazzi è che non mi conto un gioco come si fa sta boss fight E poi tra l'altro Oh no Ah ok ok si mi ricordo mi ricordo Vedete gli oggetti che Ci tira Ovviamente lì dobbiamo Dobbiamo respingere gli oggetti che ci tira Oh no Ma dai Tira Tira la Tira la Tira la Presa Tira la Tira la Tira la Perchè mentre c'è chi dorme Io sto registrando una serie di video uno dietro l'altro Tira la Tira la Tira la Tira la Tira la Tira la C'è roba che veramente Tira la 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 Tira la